Buona domenica dal Montefalcone Social Campo, siamo con... Ezio, Alessandro e Domenico. Bene, allora, avete disputato la partita questa mattina. Come è andata? Questa è la partita? No, è la partita. No, è la partita. No, è la partita. Questa è la partita. Una battita però, purtroppo abbiamo perso. Sì, non abbiamo vinto. Per tenere la routine abbiamo perso. Questa che è il numero di partita era? La terza. No, è la terza. Quindi avete terminato questo giro? Sì. Perfetto. I risultati delle altre partite invece quali sono stati? Noi 3 su 3 vengono. Ah, perfetto. Noi 3 su 3 vengono. Noi 3 su 3 vengono. Noi 3 su 3 vengono. Noi 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 vengono. C'è qualche cambiamento da fare. Nesta mano. Nesta mano. Nesta mano. Nesta posta. Va bene. Quindi in ogni caso potremmo comunque nella seconda fase del girone. E mi sape magari lì non troviate la quadra. Un'altra sport. Una quadra. Una quadra. Una boccia. Una boccia. Secondo me è meglio. Fatta l'età. Secondo me è boccia. Va bene ragazzi. Allora vi auguro una buona domenica. E ci vediamo poi. Grazie. Buona ragazzi. Buona. Ciao.